io non ho mai giocato il torneo è lungo ci sono 18 giornate ma giochi chiare magari poi si definisce siete da media classifica e ve lo ha giocato in tutte le squadre di media classifica tira bravo Sandro dai si ma non fai il vecchio me lo aspetta si ma non fai la mano la mano la mano riprendiamo tutta la partita rispetto al fiopo a video da 5-1 si vede? sono tutti li fanno stancati loro sono 5 pure tra l'altro i neri oggi chi manca uno resta fuori sono 2 si è meglio vi girò la mofficina di terza vantaggio ci senti pure tu non c'era all'inizio del torneo del scorso chi veniva mentre riprendeva mi diceva oh ma chi sei? mi diceva oh ma vedi che si sentava tutte le cose per me va bene questi sono i completini che hai fatto tu? si non sono male le viste no no assolutamente questi ti verrebbero 15 euro col stampa tutte le cose e perché quelle 18? cosa è quella di particolare? è diverso il materiale è qualità superiore è che di questo tutti i colori quasi finiti c'è solo verde quindi siamo chiamati verde brand ah giallo no giallo non c'è non la fa questo modello giallo non esiste giallo nero tipo così no non esiste a gente ti consigliavo subito questo non c'è stato un minimo screzzo come nel primo che hai fatto tutto non c'è sempre che le persone si giovano vero? c'è naturalmente la tensione giusta nelle fasi calde anche in alcune partite tra squadre forti non ci disturba no? ma la cosa si vede molto si parla ogni tanto c'è qualcuno a che fare è normale dico altrimenti non sarebbe partita di calcio calcio è anche questo infatti anche gli armi che avvengono qua per loro è paradiso certo avevo proposto nello scorso torneo una cosa innovativa solo che avevo una qualità video scarsa la partita è in diretta praticamente tramite un stream in diretta praticamente che è un sito che ti permette di fare lo streaming live solo che vedevo che era seguita da pochissime persone e quindi tra l'altro la qualità mi toglieva qualità diciamo al video che comunque rimaneva salvato ma era un video di qualità pessima ma c'erano spese per fare solo? no 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 era un sito gratis che forse secondo me c'erano delle opzioni per farlo a pagamento per facendolo a pagamento si vedeva meglio però se poi non ce la vedeva nessuno non aveva senso però in eri stanno giocando molto meglio rispetto alla partita scorsa che hanno fatto con lui hanno provato a giocarsi all'attacco e non hanno capito nulla